Purtroppo, sette giorni dopo, doccia fredda a Catania dove si perde. Ma nessuno contesta saggiamente, altrimenti sarebbe la fine. Contro la Cremonese, la Samp ritrova il suo presidente. Mantovani, reduce da guai cardiocircolatori, torna in tribuna sfidando i medici. La partita sembrerebbe mettersi al peggio perché la Cremonese, che ha Guidone Vincenzi in panchina, segna per prima. Ma nel giro di due minuti, nella ripresa, Garritano e Pat Sala ribaltano il punteggio con due splendidi gol. Ed è il successo. È il primo novembre e per un mese e mezzo la Samp non perderà più.